All'Istituto Comprensivo Enrico Totti, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione e Igiene dell'ASL 10 e di Feder Sanità Veneto, si è tenuto un convegno dibattito dal titolo Celiachia e Nutrizione. Vediamo il servizio di Eleonora Biral. Dottoressa, parliamo di celiachia, un'intolleranza permanente ai glutine. Quali sono i principali sintomi? Allora, la celiachia è una malattia complessa, è un'intolleranza complessa. È fatta forma di iceberg. Nel lattante, al momento dello svezzamento, quindi a 4-6 mesi, è il lattante che non cresce, è il lattante che ha la diarrea, che ha il pancione, che ha gli arti distrofici, quindi magro-magro, che ha le borse di tabacco a livello dei glutei. Nell'adolescente, nel bambino invece, possono esserci sintomi più disparati, la difficoltà alla digestione, le afte, la pancia gonfia, la stitichezza. A volte ci sono anche gli obesi, anche se questa è la malattia tipicamente del malassorbimento. E a volte ci sono delle malattie autoimmuni che si associano alla celiachia e che forse sono spia di una celiachia latente. Dottoressa, quali sono i trattamenti o le eventuali diete da seguire per un celiaco? Allora, l'unica terapia attualmente è la dieta senza glutine, che deve essere rispettata in maniera rigorosa e per tutta la vita, diciamo quindi dal momento della diagnosi per sempre e quindi evitare tutti quei cereali che contengono glutine e quegli alimenti che possono essere stati contaminati da glutine o che contengono questi cereali vietati. Ci sono delle normative che favoriscono i celiaci? Certo, ci sono alcune normative. La più importante è la legge quadro 123 del 2005, che interviene per ridurre il disagio sociale del celiaco. Quindi non parla di alimentazione, ma parla di integrazione del celiaco. Quindi obbliga tutte le mense pubbliche, quindi scuole, ospedali, mense aziendali, di offrire al celiaco un pasto corretto e eseguito in maniera non contaminata. Siamo con Paolo Stocco, direttore generale dell'Ulss 10 del Vanetto Orientale. Come si scopre di essere celiaci e a chi ci si deve rivolgere? Noi abbiamo dei servizi, degli ottimi servizi. Ci si scopre perché si hanno delle intolleranze alimentari per le quali bisogna poi provvedere a fare degli accertamenti. Oggi noi nella nostra azienda, nel nostro territorio, contiamo ai noi circa 300 casi che sono in evoluzione proprio perché è possibile diagnosticare meglio rispetto nel passato e quindi è possibile anche intervenire precocemente e soprattutto avere quelle necessarie attenzioni per una dieta equilibrata senza glutine tale da permettere di evitare delle complicazioni ulteriori.